La prima fornitura di 7.000 vaccini Pfizer-BioNTech all'Asp di Agrigento è già andata esaurita. Vaccinazione a tappeto fatta essenzialmente al personale sanitario degli ospedali, ma anche a medici di base, farmacisti, fisioterapisti, personale amministrativo dell'azienda sanitaria e anche ai primi anziani oltre 90 anni. Un procedimento che però con questi numeri non può che andare troppo a rilento, tanto più che il commissario dell'Asp di Agrigento Mario Zappia ha dichiarato oggi alla nostra emittente che per le prossime ore si attendono appena altre 4.000 dosi di vaccino. Il manager non dice di più, ma è evidente a tutti come 4.000 ulteriori dosi siano decisamente una cifra irrilevante rispetto alla gravità dell'emergenza sanitaria che si sta vivendo e che ogni giorno di più preoccupa, vista la direzione della curva epidemiologica in Sicilia, che continua a salire vertiginosamente. E la prospettiva sull'imminente utilizzo degli altri vaccini approvate dall'Unione Europea, quelli della Moderna, in attesa del via libera programmato per fine gennaio dei vaccini AstraZeneca, non induce certamente all'ottimismo. Al momento, infatti, è in arrivo in tutta Italia la cifra simbolica di 47.000 vaccini prodotti dall'azienda farmaceutica statunitense. Il tutto, in attesa di sapere quante di queste dosi arriveranno in Sicilia e particolarmente all'Asp di Agrigento, appare perfettamente inutile guardare alla necessità di una programmazione di un numero di siti sparsi sul territorio per accelerare il più possibile la campagna vaccinale. Anche perché fino ad oggi le vaccinazioni sono state fatte negli ospedali, mentre per poter ampliare il raggio d'azione occorre una quantità di personale che al momento non c'è ancora. Ed è questo uno degli aspetti oggetto di forti critiche nei confronti del commissario unico Domenico Arcuri. Ha aumentato le aspettative dei più anziani. Nel frattempo, la prima apertura alla vaccinazione degli ultraottantenni, il coordinamento della campagna nei confronti di questa parte della popolazione, sicuramente più fragile, viene gestita in collaborazione con i medici di famiglia. Sembra scontato ormai che le prossime dosi di vaccino saranno destinate proprio agli ultraottantenni. Nel frattempo, in Sicilia, la situazione dei contagi è d'autentico allarme, con uno spettro della zona rossa che si avvicina sempre di più. Al momento, la situazione in provincia di Grigento sembra quella migliore tra le nuove province siciliane, anche se è di ieri la dichiarazione della piccola Ravanusa come nuova zona rossa, in una fase nella quale ci sono situazioni locali, come dalle nostre parti nella Valle del Belice, tra Menfia, Santa Margherita e Sambuca, che inducono a più di qualche nuova preoccupazione. Per il resto, da Siracusa a Messina, la città dello stretto è quella dove i numeri sono finiti letteralmente fuori controllo, da Trapani a Caltanissetta, la situazione è di autentica emergenza. Come indica anche questa cartina pubblicata dal giornale di Sicilia, ma è la pressione sugli ospedali palermitani, in particolare quella che al momento si rivela sempre meno sostenibile. La metà dei ricoverati di tutta la regione sono infatti sparsi tra il Policlinico e Villa Sofia. Il parametro dei 250 casi per ogni 100.000 abitanti, se non dovesse verificarsi un'inversione di tendenza, è ormai dietro l'angolo. Raggiunta questa soglia, infatti, scatterebbe lockdown totale, la misura più severa tra quelle applicate dal Ministero della Salute. Al momento la nostra regione è considerata ancora zona arancione, malgrado, si ricorderà, il Comitato Tecnico Scientifico aveva chiesto al Presidente Musumeci di dichiarare la zona rossa. Zona arancione che però rimarrà in vigore, probabilmente ancora per poco in provincia di Grigento, come detto, situazione tuttora sotto controllo, anche se nelle ultime ore sono aumentati considerevolmente i ricoveri e in una fase in cui molti sindaci sono preoccupati degli assembramenti della Movida nelle pubbliche piazze, come dimostra l'intervento del sindaco di Grigento, Franco Miccichè, su San Leone e Via Tenea. In un momento come quello che stiamo attraversando, l'attuale indisponibilità del Covid Hospital a Ribera, su cui i lavori sono ancora in corso, è argomento di dibattito, soprattutto in retrospettiva su quello che si sarebbe dovuto fare in tempo e che invece non si è fatto.